A Roseto degli Abruzzi la Guardia di Finanza ha scoperto un laboratorio clandestino che produceva capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. I militari hanno seguito un soggetto che usciva da un'abitazione adibita al laboratorio portando diverse buste blu di grandi dimensioni piene di scarpe, maglie e giubbotti con marchi falsi. Dopo aver tentato la fuga l'uomo è stato bloccato dai finanzieri che hanno sequestrato i beni oggetto di reato procedendo poi alla perquisizione del locale. All'interno del laboratorio sono stati trovati altri capi di abbigliamento e accessori pronti alla vendita, una parte di capi vergini destinati a essere marchiati con la posizione di sticker adesivi di famosi brand tramite un semplice ferro da stiro per la posizione a caldo sugli abiti e sugli accessori. In totale sono stati sequestrati 133 capi contraffatti, 1030 stickers di marchi vari e un ferro da stiro. L'uomo responsabile dell'attività illecita è stato denunciato alla procura per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La guardia di finanza evidenzia l'importanza della repressione di un fenomeno che rega gravi danni all'economia sana e ai consumatori perché vengono messi in commercio prodotti di scarsa qualità se non addirittura pericolosi per la salute a causa dell'utilizzo di materiali non idonei a entrare in contatto con la pelle. Senza contare il flusso di denaro destinato ad alimentare il circuito criminale nei suoi molteplici aspetti.